Continua a tenere banco a Pieve di Teco la questione dell'ordinanza anti-alcol disposta dal sindaco Alessandro Alessandri e modificata sempre dal primo cittadino che ha allargato gli orari in cui si possono consumare bevande alcoliche nella via dei portici medievali e in piazza Cavour. A farsi avanti ora è ancora una volta il gruppo consigliere di opposizione Pieve Bene Comune che contesta anche la modifica dell'ordinanza sindacale. Per gli esponenti di opposizione infatti l'ordinanza è sbagliata e andava revocata anche perché riguardando soltanto la zona centrale del borgo rappresenta una discriminazione nei confronti dei locali pubblici coinvolti rispetto a quelli che invece restano esclusi dal provvedimento. Per Pieve Bene Comune se ci sono delle situazioni o dei comportamenti illeciti di qualsiasi genere questi vanno sicuramente contrastati e colpiti ma gli altri vanno lasciati in pace e il paese deve essere promosso per farlo conoscere in modo positivo.